Buongiorno e benvenuti a questa è la segna stampa di oggi mercoledì 24 ottobre. Vi dico subito che le notizie dei giornali sono tutte quante concentrate ovviamente sulla bocciatura da parte dell'Unione e della Commissione Europea della manovra finanziaria italiana. Il motivo per il quale c'è una bocciatura è sostanzialmente triplice. La prima è che l'Italia sogna di crescere dell'1,6% nel 2019, neanche Babbo Natale ci crede, men che mai la Commissione Europea, la quale dice per esempio dateci anche una idea di crescita da parte di qualche organismo indipendente perché tutto il mondo pensa che voi cresciate di meno. Devo dire che l'idea di crescere sempre più di quanto avvenga c'è già nei documenti, i documenti ufficiali degli anni scorsi hanno sempre previsto una crescita maggiore di quella che si è verificata. Seconda questione che dicono il debito non scende, terza questione il deficit strutturale cioè il deficit sostanzialmente depurato dall'andamento contingente è superiore a quello previsto. Insomma l'Europa ci boccia. Sapelli sul messaggero dove appare Presidente del Consiglio oggi ha un strano punto di vista però molto diciamo governativo. Il nostro problema non è il debito e su questo è d'accordo tutto il governo ma la mancanza di crescita. Bisognerebbe chiedere a Sapelli che un grande professore di economia e che quest'area è sempre di quello che ti spiega tutto quanto perché noi non abbiamo letto nulla come si fa a non mettere relazioni in una cosa con l'altra però io alzo le mani per non essere insultato dal professore Sapelli. Seconda grande dichiarazione di oggi è Mattarella che dice rispettare l'equilibrio di bilancio e su questo monito come si suol dire perché quando parla Presidente della Repubblica c'è sempre un monito mi chiedo non abbiamo in Costituzione l'obbligo di pareggio di bilancio a parte questioni eccezionali quindi il Presidente della Repubblica che io condivido voglio dire nella sua esternazione è tutto sommato dice una cosa che o è prevista la Costituzione e allora lui la dovrebbe far rispettare o se non è prevista la Costituzione non riesco a capire perché ne parli. Il Presidente della Repubblica dovrebbe conoscere la Costituzione molto meglio di quanto la conosciamo noi a meno che non sia un'idea generica di pareggio dei conti che esula completamente dalle funzioni del Presidente della Repubblica ma sia quella di un economista. Riguardo al Presidente della Repubblica c'è una strana pubblicità che ho letto oggi su qualche giornale in bianco e nero visibile pari a zero magari un pochino di marketing un pochino più di colori un pochino più di informazioni da potevano mettere oggi mi sembra sul Repubblica sul Corriere di una serie di come si chiama una serie di manager più o meno conosciuti che vogliono il rispetto del Presidente della Repubblica. Insomma interessante il punto di vista mi sembra che da questa a questi ci sia anche lupo rattazzi. Bekis oggi ci racconta su Italia Oggi che non solo quella italiana è stata bocciata o meglio l'italiana è l'unica manovra bocciata e questa è la prima volta che avviene in vent'anni di esistenza dell'euro per tutta l'Europa quindi il dato è significativo ma sono stati richiamati anche i conti di Francia, Spagna, Portogallo e mi sembra Belgio. Invece molto interessante sembrava all'apparenza il pezzo di Zatterin sulla stampa poi ve lo sconsiglio non perché non sia interessante c'è poco da essere perché prometteva meglio cioè ci prometteva tutti quanti gli scontri che ci sono stati tra la Commissione Europea e i ministri e i presidenti del Consiglio Italiano. Quello che vale sono le prime cinque righe che bene scrive Zatterin poi potete anche lasciarlo in cui ricorda quando tre anni fa ci fu un Renzi che disse se la Commissione Europea ci boccia la nostra manovra noi la riproponiamo. Esattamente quello che dice oggi Salvini. Bastava fare 30 righe e più o meno ce le ricordavamo poi ricorda un po' di tribolazioni con Tremonti ma la cosa fondamentale sono le prime cinque righe del pezzo di Zatterin. Sulla Commissione Europea vi devo segnalare anche la questione che tutti i giornali segnalano, Repubblica ne fa una striscia e anche altri giornali la raccontano con delle foto cioè del deputato, com'è che si chiama, ciocca parlamentare europeo che prende e sbatte una scarpa davanti a Moscovici sul documento in cui la Commissione Europea boccia il nostro progetto di bilancio. Allora su questo atteggiamento che tra l'altro è un po' sgradevole secondo me e tra l'altro io per esempio quando dico le parolacce sono esattamente la stessa cosa qualcuno di voi mi dice ma guarda non le dire che non servono a nulla ecco serve a poco forse anche sbattere quella 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 scarpa ma anche se uno dovesse e volesse prendere qualche estremista a cui quella scarpa piace che si sbatta perché siamo pieni di estremisti beh insomma alla fine però non andare a stringere la mano a Moscovici e c'è ragione Gramellini su questo ma che modo di fare cioè da una parte gli sbatti in faccia gli dai uno schiaffo e poi dopo che gli hai dato lo schiaffo gli stringi la mano insomma mi sembra una cosa caro ciocca voglio dire mettiti d'accordo con te stesso e sbatti la scarpa vuoi fare il fenomeno vuoi fare il rivoluzionario e beh allora se fai il rivoluzionario non gli stringere la mano al commissario europeo che peraltro rifiuta la stretta di mano quindi sei cornuto e mazziato ma insomma a Roma due cose avvengono che non so perché non siano state messe in relazione la prima è una scala mobile che crolla che è il disastro di Roma voglio dire che non dipende da un sindaco ma dipende probabilmente dalla gestione di questa città degli ultimi vent'anni chi la vede in maniera invece diciamo più politica il messaggero che la chiama Roma a pezzi tra l'altro su Repubblica questi ultra russi dicono che non stavano affatto ballando ma anche se stessero ballando l'idea che una scala mobile possa cadere nella metropolitana di Roma abbiate pazienza non mi sembra una grande giustificazione e beh stavano ballando la prossima volta sapete come andiamo in punta di piedi sulla 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 scala mobile io dico la raggi cioè se avesse risposto così cioè non sono morte ma sono ferite 24 persone e allora potevano rispondere così adesso vi arrabbiate i benetton e purtroppo c'erano troppi camion in quel momento che andavano troppo veloce o non ci avete fatto manutenere quel ponte no zitta 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 raggi zitta perché quella roba lì dipende da te il comune di Roma ha 25.000 dipendenti le sue municipalizzate altre 25.000 se succede un incidente non è possibile che tu non abbia mai la responsabilità di nulla no nel frattempo a Roma avrebbe dovuto sgomberare da anni un luogo di malaffare in cui è stata violentata una ragazza desire la foto del quotidiano nazionale forse quella più significativa di queste ragazzine di 16 anni che potrà aver avuto certamente qualche imprudenza anzi enorme imprudenze però l'idea che in una città si possa essere così bestialmente uccisi come Roma io la trovo una cosa incredibile riguardo alla manovra vi raccordo soltanto che sul condono è un po cambiata l'impostazione il il sole 24 ore ne parla di diffusamente ma dice una cosa sostanziale l'adesione alla all'integrativa cioè quella che permette di poter emergere 100.000 euro di imposte ed imponibile non pagato negli anni precedenti attenzione che con il nuovo scrittura del condono non mette al riparo dal possibile reato di falso in bilancio ovviamente per le società però insomma rendetevi conto che quello scudo fiscale fa sì che questo possa diventare falso in bilancio voglio vedere chi si azzarderà a condonare qualcosa con l'ipotesi che venga poi preso come falso in bilancio l'ultima cosa che vi voglio segnalare ce ne sarebbero tante altre per esempio quanto costeranno le ferrovie dello stato quando compreranno l'italia non riescono a gestire bene gli affari loro ma dovranno spendere 2 miliardi per gestire l'italia e il bellissimo pezzo di peppino sottile su quei 2.000 sui 300 pip che sono 300 persone che a palermo da 20 anni c'hanno il reddito di cittadinanza e non hanno mai restituito e mai lo restituiranno ma a parte questo il pezzo più significativo di oggi per capire la mentalità cornuta della sinistra e dei suoi intellettuali altro che sabiano è l'intellettuale mostro globale di sinistra picchetti che ovviamente viene intervistato a repubblica io penso quando leggo queste robe qui capisco bene perché poi dopo allora chi ha scritto che sei una verruca è un poco di buono picchetti dice cosa sta succedendo in brasile sta vincendo bolsonaro e ci spiega con questa aria no del grande tecnico e del grande professore che fino al 1989 in brasile non c'era il suffraggio universale e ci spiega che soltanto da poco di fatto è stata abolita la schiavitù o comunque la differenza razziale che esisteva tra le classi in brasile quindi questo brasile che era arretrato che nell'89 fa sì che ci sia finalmente il suffraggio universale bene nel 2002 dice si compiace vince in maniera straordinaria lula adesso io non è che sono un grande conoscitore della politica brasiliana delle procure brasiliane ma mi che abbia avuto qualche problema con la giustizia lula ma questo conta poco lula è una grande vittoria nel 2002 adesso però il rischio è che quel suffraggio universale che ha permesso allora di vincere permetta di vincere bolsonaro e che rischia di trascinare il paese verso un pericoloso arretramento quindi la democrazia e il suffraggio universale quando viene utilizzato da lula oggi arrestato caro picchetti va bene fino a prova contraria è stato arrestato per aver rubato dei soldi allora in quel caso il pericoloso arretramento non c'è se c'è un presidente che poi viene arrestato e che viene eletto dal popolo se invece il popolo elegge bolsonaro allora c'è un pericoloso arretramento perché il suffraggio universale funziona se vincono gli amici tuoi se non vincono gli amici tuoi è un disastro io questa la cosa la trovo esattamente la logica solita per la quale vale in italia vale a riace insomma picchetti come riace bolsonaro come lodi l'altra cosa che dice fantastica che dice il rischio cioè l'altra cosa pazzesca che dice che in realtà bolsonaro ha anche un atteggiamento razziale e contro i neri e contro i creoli e contro gli indigeni e poi dice però sono diventati minoranza e bianchi in brasile allora sono diventati minoranza però questo viene eletto con il suffraggio universale e quindi non va bene la cosa fondamentale è che alla sinistra la democrazia sinistra dell'uguaglianza dei diritti dell'accoglienza di riace di lucano di lula la democrazia fa schifo a meno che non elegga i suoi beniamini quando la democrazia si sbaglia e succede qualche volta e fa sì che arrivino i populisti i salvini i di maio i bolsonaro metto tutto insieme i curs che poi ha criticato anche la manovra italiana allora non va più bene allora si può essere antidemocratici figuratevi un po voi i liberali nell'ottocento erano tutto tranne che democratici ma va benissimo essere antidemocratici ma non ci rompete le balle allora quando il popolo ha eletto lula quando il popolo ha eletto chavez e non va bene vabbè comunque leggetevi picchetti perché la contraddizione vivente pensare che questo signore sul suo libro sulle disuguaglianze è diventato un mito della sinistra e del progressismo mondiale vi fa capire come la sinistra sia un disastro ciao